Ah, giusto. Devo finire di bruciare questa zona infestata. Un altro nido. Diamogli fuoco. Un altro taglio. Finalmente. Servono sempre. Ok. 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 Presempie no. Finalmente, che cazzo. Ma non è ridotta troppo male. Del carburante. Così dovrebbe andare. Sì. 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 Ma che diavolo è questo suono? Un iniettore. I nero si trattavano bene. Questo mi darà sveglio. Un registratore. Vediamo. Oh, Cristo Santo, cos'è stato? Speriamo di non doverlo scoprire. Oh, Cristo Santo. Oh, c'è un altro nido. Ok, devo solo bruciarlo. Oh, Cristo Santo. Oh, Cristo Santo. Ah... Oh... Oh! Oh. Grazie a tutti! Grazie a tutti! St. John, Tucker a St. John. Abbiamo un lavoro per te. Ciao, Tucker. Se faccio un salto non appena riesco. Chiudo. S. John, come ti dici? S. John, come ti dici? S. John è qui.